Blasioli, lei imputa alla regione, alla giunta regionale in particolare, una scarsa attenzione, una scarsa sensibilità nei confronti dei diabetici della nostra regione. Perché? Guardate, qui la situazione è già di grande, grande abbandono e rilassatezza nei confronti dei diabetici abruzzesi. Abbiamo da luglio del 2020 che continuano a dire che è pronto un progetto di DPC, cioè significa di e per contro la distribuzione di tutti i presidi che servono per diabetici nei comuni, che invece i diabetici ogni due mesi si devono spostare presso le rispettive ASL e i distretti, percorrendo chilometri, spendendo soldi, per avere i presidi che sono loro necessari. A maggio del 2021 abbiamo presentato una interpellanza e ci hanno detto che la situazione è pronta per essere risolta, stiamo arrivando, e invece la situazione è sempre la stessa. A questo si aggiunge un peggioramento della situazione, perché a Pescara i diabetici, il centro di diabetologia, è stato spostato dal 16 di settembre qui in Via Rieti. E la situazione che abbiamo dimostrato oggi è una situazione paradossale, perché significa spostare qui 100 persone al giorno che vengono a fare la visita al quarto e al quinto piano, e però per alcuni di loro la situazione è inaccessibile. La carrozzina di Marco oggi ha dimostrato come, anche arrivando al piano rialzato, dopodiché la sua carrozzina non entra negli ascensori di questo distretto, e quindi al quarto e quinto piano lui ci deve andare spostandosi su un'altra carrozzina di peso. Due ulteriori considerazioni su questo. Il primo, ci sono le risorse del PNRR che riguardano la sanità del territorio, e questo è un esempio addirittura esemplare proprio per quanto riguarda la sanità territoriale, i servizi al cittadino e i servizi territoriali. Secondo, nella scorsa legislatura avevamo approvato il percorso diagnostico-terapeutico per quanto riguarda ovviamente questa patologia così importante e crescente come appunto il diabete e da allora non è stato fatto nulla. Le programmazioni sono rimaste al palo e questo purtroppo è un esempio di sanità interrotta, ovvero di una sanità che in ragione del Covid ha visto la interruzione di interi servizi per quanto riguarda altre migliaia e migliaia e migliaia di cittadini. Faremo battaglia sulle risorse del PNRR e faremo battaglia ovviamente perché il percorso diagnostico-terapeutico per il diabete possa essere applicato esattamente come avevamo normato nella scorsa legislatura.